Un saluto a tutti da RaffaeleDrake74 Venerdì scorso mi è arrivato il Corriere e ho aspettato ad oggi per aprirlo e condividere questa apertura con voi Questo è un pacco che mi arriva da Amazon Andiamo subito al contenuto Scatole cinesi Un altro pacco dentro al pacco E sappiamo che quelli di Amazon non sono assolutamente scrupolosi Una action cam E a breve vi farò anche l'unboxing È una action cam che ho comprato in offerta lampo su Amazon a meno di 60 euro Per adesso è tutto Come al solito vi chiedo che se vi è piaciuto il video E vi piace quello che faccio e volete vedere altri video e volete supportarmi Iscrivetevi al canale YouTube Mettete un mi piace sulla pagina Facebook con like al video E andate a visitare il mio sito Trovate tutte le informazioni linkate in descrizione Un saluto a tutti